Allora con Manuel Coscione, Monza vince 3 a 1 contro il Temo Calli Focalabria Vivo Valencia. Chi l'avrebbe detto, scopongo il primo set che vi ha visto credire molto bene la partita. Sì, abbiamo fatto un buon primo set, sicuramente loro forse il primo set erano un po' giù, poi si sono ripresi e noi non siamo riusciti a stare dietro. Abbiamo faticato molto col cambio palla, sono andate via alcune certezze che fino adesso ci avevano contraddistinto e quindi abbiamo subito tanto, loro poi sono piaciuti tantissimo in battuta, anche nella fase di difesa e contraattacco. Noi forse abbiamo mollato un po' presto il quarto set, peccato perché ci troviamo a fare qualche punto per riuscire a stare attaccati a loro in classifica. C'è qualcosa di loro che vi ha sorpreso stasera? No, hanno giocato come sanno giocare, come avevamo studiato. Una squadra tosta, una squadra che in battuta batte forte, ha dei buoni, ha un buon ritmo. No, sapevamo che a Muro erano fastidiosi. No, hanno giocato come noi ci aspettavamo, hanno forse attaccato meglio di noi sicuramente la palla alta. Complimenti a loro perché hanno giocato una buona gara. Si chiude una serie di sette partite consecutive a punti per Vivo. Com'è il bilancio fino ad ora e quali sono le prospettive da qui in avanti? Secondo me il bilancio è abbastanza buono. Insomma, siamo risaliti in classifica, però ora bisogna rimettersi e lavorare perché il 26 andiamo a Bolfetto su un campo molto difficile, dove dovremmo assolutamente far punti. Quindi dobbiamo ricominciare oggi, peccato, non abbiamo preso, veniamo via di qua a mani asciutte, ad orto asciutta, però insomma speriamo di riprenderci subito dal 26 perché è fondamentale per noi fare punti contro le dirette concorrenti. Perfetto, grazie, in bocca al lupo e buon Natale.